Lunedì 20 settembre 2021, buongiorno, buon inizio settimana, buon lunedì da Manuel Manconi e da tutto lo staff. Questa è Forza Lazio Web TV, partiamo subito con la nostra sigla. Ebbene, ebbene cari amici, ben ritrovati, prima di partire il consueto invito ad iscrivervi a tutti i nostri social, in particolare al canale YouTube, in modo da poter seguirci in maniera attiva e anche partecipando, questa è la cosa più bella, abbonatevi a solo 1,99€, pensate un po' per supportare quello che è il nostro progetto. iscrivetevi, attivate le notifiche, che sono una cosa fondamentale appunto per non perdervi nulla del mondo di Forza Lazio Web TV, qualora voi lo appreziate, ci mancherebbe, non è che dovete essere obbligati a farlo, grazie intanto a chi ci supporta con dei contributi volontari mensili, come ad esempio quelli che in maniera, usando un parolone, vogliamo chiamare come nostri amici sponsor, quando invece in realtà le loro sono donazioni volontarie per le quali davvero noi siamo assolutamente grati e li ringrazieremo sempre. Ebbene, ci siamo, anche la quarta giornata di campionato ce la siamo messa alle spalle, prima di ieri c'era da parlare di Milan quasi campione d'Italia, squadra imbattibile, squadra più forte di tutti, c'era da parlare di una Juventus relegata a un ruolo di secondo piano, c'era una Roma già lanciata insieme al Milan per la lotta per lo Scudetto, c'era una Salernitana che avrebbe dovuto prendere 6, 7, 8 gol dall'Atalanta, niente di tutto questo. Perché ho voluto esordire questo mio video in questo modo? Per ricordare a tutti quanti che prima di dare dei giudizi, principalmente per quanto riguarda il calcio, soprattutto quando ci si trova all'inizio di una stagione, perché siamo appena all'inizio di una stagione, secondo me bisogna andarci, come si dice a Roma, con i piedi di piombo, bisogna andarci piano, bisogna stare attenti, bisogna saper aspettare il frutto di questi giudizi totalmente sballati, totalmente sballati, sono dovuti al fatto che nessuno dell'ambiente sa avere pazienza. Io lo so che è una parola antipatica, l'avere pazienza è uno sforzo, io mi rendo conto che si vorrebbe tutto e subito, ma non è così, non funziona così nel mondo del calcio. E chiaramente mi proietto subito anche nel discorso relativo Lazio, questo era un piccolo preambolo solamente per fare, proprio per questo, proprio per parlare e introdurre quello che è il discorso Lazio. Intanto la Roma ha perso a Verona, la Juventus, per quanto mi riguarda, doveva battere il Milan, Milan è uscito fuori solamente nella parte conclusiva della partita, quando ha pareggiato e poi ha provato a rendersi pericoloso, sfiorando il vantaggio, ma per me, dopo tutto ciò che si è mostrato nell'arco della partita, la Juventus, se avesse vinto, non avrebbe rubato nulla. La Salernitana ha dominato l'Atalanta, l'Atalanta solo nel secondo tempo è riuscita a sbloccarla e portarla a casa, perché altrimenti solo la Salernitana ha fatto la partita con l'Atalanta. La Roma, l'ho detto, è caduta a Verona, ragazzi, ci vuole tranquillità di giudizio, ci vuole pazienza, ci vuole equilibrio nel dare giudizio, soprattutto quando si è a inizio stagione, e mi proietto subito al discorso Lazio. 2-2 col Cagliari, una partita che ha offerto, per quanto mi riguarda, più spunti positivi rispetto a quelli negativi, il che non vuol dire che non ci sono state situazioni negative da andare ad approfondire. No, non sto dicendo questo. Sto però dicendo che sicuramente rispetto alla prestazione in Turchia, rispetto alla prestazione di domenica scorsa contro il Milan, io ho notato un miglioramento. Dove stanno le cose positive? Parto subito da quelle, perché poi ci sarà da dedicare più tempo a quelle negative. Le cose positive, secondo me, per quella che è la mia esperienza di vivere il calcio, stanno nel fatto che assolutamente nell'aspetto fisico, la brillantezza fisica, l'ha tenuta fino a fine partita, cosa che non c'è mai stata nelle precedenti partite, neanche quando abbiamo vinto con Empoli e Spezza, dove la Lazio nel finale ha rallentato. Invece, paradossalmente, la Lazio ha avuto la reazione nervosa, primo punto positivo, subito dopo il 2-1 del Cagliari, la Lazio ha avuto brillantezza fisica, secondo spunto positivo, fino alla fine della partita, dove ha cercato anche di vincerla la partita e secondo me, se ci fossero stati altri 10 minuti di partita, la Lazio l'avrebbe pure vinta, perché il Cagliari non riusciva più a uscire dalla propria area di rigore. Questi sono gli aspetti positivi, anzi, c'è neanche un terzo che è legato però a un aspetto negativo. Dobbiamo, secondo me, valutare nel nostro piccolo Leiva, il discorso Leiva, e mi spiego meglio. Sono sempre più convinto, ripeto, non è un giudizio definitivo il mio, è un'impressione, sono sempre più convinto del fatto che Leiva non vada assolutamente bene per quello che è il modo di vedere calcio di Sarri. Leiva dà tanto equilibrio, perché è molto bravo in fase di contenimento, in fase di interdizione, e sono d'accordo, però poi la Lazio perde quando c'è da andare ad impostare con Leiva, ok? Partendo dal presupposto, perché le parole di Sarri nella sua conferenza stampa di presentazione devono essere assolutamente il riferimento di questa stagione della Lazio, Sarri, io la so a memoria la conferenza stampa di Sarri, Sarri disse che a lui non piace aspettare l'avversario, a lui piace andarsi a prendere la palla. Allora, a quel punto mi viene da pensare che sia Cataldi il giocatore adatto, anche se lo stesso Cataldi, per quello che ha la rosa della Lazio chiaramente, anche se lo stesso Cataldi in maniera molto umile nel post partita di ieri ha detto io devo lavorare molto nella fase di interdizione perché lì sono davvero, non vado bene, devo lavorare tantissimo, ok? Ma se la Lazio deve andarsi a prendere la palla e quindi deve fare la partita costantemente, deve salire a prendere la palla, serve un giocatore dinamico là, perché il ruolo di Leiva o comunque di chi per lui è fondamentale, perché fare? Per tenere, per fare da collante, per tenere bene le distanze tra la difesa e il centrocampo. Fate caso, faccio subito un esempio, il gol, la doccia fredda inizia in ripresa di ieri, il gol del Caglia rinasce da un evidente svarione di Leiva. Leiva arranca fisicamente a una certa età, ragazzi, parliamoci chiaro, ecco perché quest'estate dicevamo che bisognava intervenire là. Quindi a questo punto, forse, andandoci anche a rimettere un pochino nella fase di interdizione, a questo punto, vedendo tutti quelli che ho in rosa, visto che ormai è scalante, dopo ieri è chiaro che non è assolutamente visto da Sarri come vice Leiva, ma il vero vice Leiva è Cataldi. A questo punto mi gioco Cataldi titolare, ci provo con Cataldi titolare, chiaramente a discapito di uno dei due mediani, di uno dei due centrocampisti, delle due mezzali, o Milinkovic o Luiz Alberto. Io dico la mia, non rinuncerei mai a Milinkovic, mai a Milinkovic, se proprio devo rinunciare a qualcuno, perché ieri davvero ragazzi in campo camminava, ieri ha giocato camminando, l'ho detto anche durante la telecronaca, Luiz Alberto gioca camminando, non sprinta mai, non corre. Se non c'è dinamismo in quella zona del campo, a questo punto mettiamo un altro giocatore dinamico al posto di Luiz Alberto, diamo più equilibrio mettendo un giocatore che sia buono a fare sia contenimento, quindi supporto a Cataldi principalmente, perché Cataldi è un po' deficitario in questo, e mettiamo un giocatore che dia supporto nel portare palla avanti a Milinkovic e appunto nel rifornire i tre attaccanti. Questa è quella che è la mia possibile soluzione. Ripeto, io dalla partita di ieri non è che voglio vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, al contrario di alcuni laziali che lo vedono sempre vuoto, sempre vuoto, sempre vuoto, neanche mezzo vuoto, sempre vuoto. Atteggiamento che non condivido ma che rispetto ci mancherebbe, non sono nessuno per mancare di rispetto alle opinioni altrui. Questa è la situazione. Di ieri cosa non ha funzionato? Troppe distanze tra i reparti. Se la difesa che è il primo reparto e l'attacco sono distanti così, quando invece secondo Sarri devono essere distanti così e in mezzo abbiamo la linea di centrocampo, si deve muovere tutto costantemente. Quando la Lazio va avanti tutti e tre reparti mantenendo le loro distanze vanno avanti, quando la Lazio deve arretrare il balicentro in situazione di difesa, tutti e tre reparti devono arretrare. Quando dico arretrare vuol dire che in questo caso i tre di attacco devono orientativamente stare intorno al cerchio di centrocampo. Ecco, queste sono le distanze giuste, cosa che ieri in moltissimi frangenti non è accaduto. La Lazio era completamente spaccata e negli spazi Nandez soprattutto è quello che ci ha fatto malissimo. Poi là davanti ci hanno due giocatori di ottima qualità come Keita e come Gio Pedro e chiaramente la Lazio ha pagato Dazio. Dobbiamo essere anche onesti perché il Cagliari quelle 5-6 occasioni nitide le ha avute ragazzi, le ha avute, fortunatamente non è riuscita a concretizzarle. Quindi distanza dei reparti. Non è più un discorso atletico come magari potevo dire un paio di settimane fa che i giocatori magari avevano assimilato gran parte delle idee di Sarri ma non riuscivano a metterle in pratica perché non supportati fisicamente, perché vengono da un ritiro pesantissimo. A questo punto, visto il finale di ieri, mi viene da pensare, posso dedurre che è proprio un discorso ancora di apprendimento del, ribadisco ancora il solito concetto, ci vuole tanta pazienza. Soprattutto, e l'abbiamo detto nel post partita di ieri e poi vado a concludere questo video, perché molti, moltissimi dei calciatori che appunto quest'anno sono il rosa della Lazio vengono da anni, minimo 5, giocati sempre col 3-5-2 quindi tendenzialmente appena ti arriva la palla o prima che ti arriva, poco prima che ti arriva o anche nel semplice disporsi in campo, tu hai ancora in testa il 3-5-2, i movimenti del 3-5-2 quindi questo è proprio un cambio drastico a livello proprio, quando si parla di approccio mentale diverso, di mentalità diversa, è proprio vero, ha proprio ragione il mister. Quindi noi tifosi, come possiamo pretendere dopo appena due mesi di lavoro di vedere qualche cosa se non il 4-3-3 iniziale in campo. Ci vuole tanta pazienza ragazzi, vi faccio un altro esempio, vediamo se i più attenti di voi se ne sono accorti. Ieri la Lazio, in moltissime occasioni, difendeva 3. Cioè era un giocatore che si perdeva, che a turno poteva essere Lazzari come poteva essere Yusai. La Lazio dietro, delle volte, difendeva 3. A questo aggiungiamo un altro discorso. Vi ho detto che se proprio devo sacrificare qualcuno nell'ottica di registrare meglio questo 4-3-3 forse almeno è una bestemmia, sacrifico Luiz Alberto. Vi ho detto che Leiva, se proprio non è adatto al 100% perché nella sua costruzione, o comunque anche per come viene esaltato, purtroppo viene esaltato con troppa facilità, preferisco giocarmi la carta a Cataldi, che ormai è assodato che è il vice Leiva, sapendo già di rimetterci un pochino in fase di interdizione, però poi la vado a recuperare mettendo una persona buona a farla anche al posto di Luiz Alberto. Però c'è anche un altro particolare. Acerbi arranca. Acerbi, che è sempre stato il riferimento di questa difesa, arranca. Ragazzi, ieri c'è stata un'azione classica che mi ha fatto capire chiaramente che delle volte la Lazio in campo non sa cosa fare e la cosa non è gravissima, attenzione, è normale quando c'è in atto un cambiamento del genere. Acerbi prende palla, si guarda a destra, si guarda a sinistra, parte dritto come un treno, entra nella metà campo del Cagliari, si invola, a un certo punto c'è a Filipe Anderson a sinistra libero, si guarda a destra, non sa che fa, si perde, alla fine fa un mezzo passaggio a metà tra Filipe Anderson e l'avversario del Cagliari e parte il break pericoloso del Cagliari. Questo cosa vuol dire? Che ai calciatori in campo non gli viene naturale pensare, a parte Acerbi non doveva stare proprio là, ma non gli viene naturale pensare come approcciarsi nella partita. Ci vuole tempo, ci vuole tempo. Quindi voglio concludere questo mio video invitando tutti ad avere tanta, tanta, tanta pazienza. Io, Manuel, mi sono dato tranquillamente, serenamente un anno, un anno di aspetto, un anno, perché è talmente grande il cambiamento e non mi paragonate il cambiamento che c'è in atto nella Lazio con Italiano alla Fiorentina, con Mourinho alla Roma, con Allegri alla Juventus, tra l'altro pure la Juve di ieri sera, ragazzi, Allegri per far posizionare un proprio giocatore nel suo schema di gioco quando è entrato a chiesa, meglio che non vi dico, ha tribolato perché in campo non sapevano dove mettersi in campo i giocatori della Juve. Quindi stiamo parlando di un problema non comune, ma che anche in altre squadre si sta registrando. Quindi in Zaglia, l'Inter, per esempio, è stato il cambiamento più naturale, perché in realtà non è stato un cambiamento. 3-5-2 era 3-5-2. L'unico vero cambiamento forte, grosso, drastico, ce l'ha la Lazio. Quindi ci vuole tanta, tanta pazienza. Scusatemi se mi sono dilungato con questo video. Commentate, iscrivetevi, mettete un bel pollicione che per noi è importante. Vi mando un abbraccio forte, forte. Buon inizio settimana e sempre comunque. Forza Lazio! Al programma Piano button è rinanzato. Per lo componer a T auto espace di dimensione. Per lo bent愛 di tutto. Per lo sentire. 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 Grazie.